ciamborno ragazzi pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video oggi non avete potuto leggere dal titolo vado a webley questa volta non vado a vedere una squadra così come il brasile o la slovena o la rituania vado a vedere inghilterra italia vado a vedere gli azzurri che vanno a combattere contro l'inghilterra è un amichevole però comunque è una buona partita non sono mai stato una partita dei tt azzurri quindi questa buona occasione prendere a vedere gli azzurri io sono molto contento che questa partita è successa il 27 marzo a webley stadium sono molto contento che è successo questo e niente io penso che finirà vita la vincerà e sono molto contento che ci vado quindi vado a webley per la mettere tra l'inghilterra intera e mi farò il video quello allo stadio e come fatto con slovene slovena italia no slovena inghilterra quindi mi piace questa avventura che vi farò e niente ci vediamo al prossimo video ciao